Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child Daniel! Papo Natale? Ma allora esisti? Certo, avevi dei dubbi? Pensavo fossi una leggenda come Gesù, Mary la Sanguinaria o Adam Cadmon E invece no, e sono venuto per regalarti tanti doni, però prima permettimi di dirti una cosa Dimmi! Potevate mettere un Cristo di camino, ho dovuto risalire le fognature del cesso per entrare Lo so babbo, però mia madre non ha molto lo spirito natalizio ed è già buona che c'è il bagno Ah, prendi la mia letterina Grazie figliuolo Buon Natale signora! Ma buon Natale è un cazzo pedofilo No, 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 vero Merchio porco maiale! Stiposo, bastardo, pestente comunista! AAAAAA! Hai ucciso Pappu Natale! Ma quale Pappu Natale? Pronto? Un grassone a Tata 2, noi cercatemi per i rapporti non protetti con mio figlio, come aggrovante con le c'è da lettere di migliori di bambini che generano un piano reato per te del cielo di materiale pedofornografico! Buon Natale anche a te, Satana! Mia madre è... Satana! Must I stay? 25 dicembre! Natale! Un giorno felice! Un giorno di pace! Un giorno dove finalmente le persone si vogliono bene! Un giorno che... da me non esiste! Perché a Natale, Satana diventa la personificazione del demonio sulla terra! Pensate che l'anno scorso ha letteralmente terrorizzato me e mio padre! Questa è la puntata dove Ashley monaco misti! Una figata unica! Ma si vedono le scene di Nudo? Tutte! non che non è vero, ma se a me non è vero! E questo giorno speciale non poteva mancare... Natale in India! Ma l'apice della follia satanesca giunge nell'immensa varietà dei cenoni natalizi. Ragazzi, oggi, minestrone! Ragazzi, oggi, minestrone! Ragazzi, oggi, minestrone! Ma che pelle! Ah sì, Lello? Allora, gli enti a trichizzò chissà domando con gli addobbi natalizi? Sì, in onda, mi dì, minestrone! Nonostante la terrificante visione del Christmas X dei miei genitori, la ribellione al pietoso cenone di Satana la convinse a cambiare menù. E così l'anno scorso... Ragazzi! Oggi! Minestrone? No, cinese! Oh, cinese! Finalmente un po' di varietà in questa casa, non se ne poteva più del minestrone, lo devi da mangiare anche al cane! O no, Pachito! Pachito? 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 Attimo, Daniel! Sta fuochendo! Nooo! 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 E arriviamo al Natale di quest'anno. L'unica cosa che poteva differenziarlo dagli altri era Alice. Ma invece... Ehi, tu! Ehi! Sono felice di essere qui con te in questo momento. Anch'io, amore. Sai, visto che è Natale, siete tutti più generosi, no? Eh, sì. Beh, io... ho deciso di dartela. Oh, è bellissimo! Tieni! E questo che cazzo è? Beh, è la maglietta che mi avevi regalato tu. Non ne ho più bisogno. Alla versione per donna! Wow! Che Natale di merda! Già. Ed eccoci qui, con l'ennesimo cenone. Daniel. Sì, papà? Ma non avevamo un gatto una volta? Sì, perché? L'ennesimo risveglio. Oh, sveglia che tra quattro mesi è Pasqua! E il bellissimo regalo di Satana. Così siamo qui, eh? Oh, cos'hai? Ogni anno sempre peggio. Alice che mi regala magliette, i nostri animali domestici che scompaiono e in più devo supportare anche le tue deviazioni mentali. E per cosa? Niente! Questo non è ancora un regalino per me. Papà! Di qualcosa! Che cazzo vuoi? Il mio regalino. Ah, il tuo regalino. Quest'anno, per via della crisi, abbiamo deciso di non farti un regalo materiale, ma emotivo. Davvero? E che cosa sarebbe? La visita annuale di zia Cristina! No! La visita annuale di zia Cristina! No! Ma come? Scappo! Scappo! Non mi mette! No! No! Paura! Auguri Daniel! Come sei diventato grande! Grazie zia! Anche tu! Allora? La fidanzatina l'hai trovata? Non ancora zia! E il lavoro? Non ancora zia! Sto studiando! Ah! Sei laureato! Non ancora zia! Sono al primo anno! Questo non lavoro! Non studio! Non sei neanche fidanzato! No! Perché tu sii! Lo sai che sono vedova! Ecco brava! Salutami la zia! E questo era Natale con Satana! Il mio triste cine pantellone! E voi ragazzi come passerete il 25 dicembre? Di vastanti pranzi familiari da vomito a spruzzo? Oppure giornatina romantica con la vostra Alice eh? Oh cicciocienza! Fatecelo sapere con un commento qua sotto o su twitter con l'hashtag mammasatana! Eeeh! Eeeh! Muoviti che chiede il sigla che sta fortificando la moglie! Eh sì ma un attimo mamma che sto finendo il... Aaaaaaah! Muoviti! Guardando le ponte le hanno tutti! Aaaaaaah! Eeeh! Welcome in the house of man! Welcome in the house of man! Welcome in the house of man! Bienvenuti alla puntata di Natale di Cuatro Satti in Pantellas!